C'è da formare una generazione di tecnici, dirigenti, addetti lungo la filiera siderurgica. L'acciaio, che diventa più verde, corre nell'avanzamento tecnologico, con i processi sempre più digitalizzati. Con il mondo del lavoro, che si fa più dinamico, servono nuove competenze metallurgiche, digitali, manageriali. Lo stanno bene riconversi Ider, l'ente di consulenza e formazione di Fideracciai, AQM, Centro Servizi Tecnici alle Imprese e ISFOR, una divisione di fondazione AIB, che dopo l'esperienza positiva del Master in Metallurgia 4.0 lanciano la Metal University per le imprese siderurgiche, metallurgiche e metalmeccaniche. I corsi, suddivisi in moduli e pensati per essere flessibili rispondendo alle domande delle aziende, cominceranno a Brescia il 22 ottobre. Credo che in un momento in cui stanno partendo questi grandi progetti proprio sul Recovery Fund, credo che sia importantissimo oggi, più di prima, partire con questa iniziativa. Come funziona? Sono tre i settori cui fanno riferimento gli altrettanti moduli didattici. Area tecnica e metallurgica, area manageriale e trasversale, area digitale. Le 750 ore di formazione per i lavoratori sono da distribuirsi in un triennio. Le competenze di cui c'è bisogno, diciamo, in generale sono quelle tecniche, perché chiaramente siamo un settore dove la componente tecnica è molto importante, quelle trasversali, perché soprattutto a livello organizzativo oggi c'è bisogno di utilizzare nuovi strumenti, e quelle digitali, perché chiaramente sempre di più le aziende oggi utilizzano il digitale, si aspettano anche iniziative nuove del Recovery Fund, dove sicuramente molti fondi saranno destinati al digitale. Il digitale è un tipo di informazione che viene ancora fatta abbastanza poco.